Rollo 304 e Pietro 3, lui è il terzo Pietro Pietro, vi racconto l'oro di Pietro, Pietro si chiama Pietro Ovviamente non ha fantasia, quindi non sa che nome mettere all'account, quindi mette il suo nome Pietro Ovviamente il nome è già in uso, cazzo, ho preso Pietro Pietro cosa fa? Prova, in quanto italiano, a mettere la solata di nascita nel nome Che ne so, esempio stupido, Pietro 98 Pietro 98, c'era già un altro Pietro nato nel 98 e ovviamente che si era chiamato Pietro 98 e quindi non poteva mettere Pietro 98 Ha provato Pietro 1 e anche Pietro 1 era già stato preso, io non fighterei contro Darius fosse in livello 1 Ovviamente adesso usarà le summoner e morirà Oddio, meno male che Pietro ho trollato E evidentemente anche Pietro 2 era già stato Ah, bravo È riuscito a intare, ce l'ha messa tutta Ma meno male che arriva il midlaner a raccogliere la kill su Pietro Io non ho mai sentito nessuno che ha chiamato i suoi figli primo e secondo, sinceramente Però va bene Più che altro quelli che chiamano, che ne so Uno che di nome fa, che ne so, De Giulio, Giulio De Giulio, cioè robe del genere Pietro Pietra Quelli sarebbero da arrestare, Dio Bo E lì ce ne sono tanti E lì ce ne sono tanti Il primo che mi secondo il secondo è il secondo primo, minchia Quello sarebbe mind-blowing Uè, strunza Ecco qua Guardi che pizze, mamma mia signori Incredibile Che sinergia con sta Miss Fortune Mi piacciono gli adcari con le palle Mi piacciono Brava Miss Fortune Questi sono i bronzi che mi piacciono Cosa? Ok Miss Fortune pinga il recall Io non ho mai visto nessuno pingare il recall, ragazzi Non ho mai visto nessuno pingare il recall C'è sempre una prima volta Morde, please Ah, minchia, 0-3 Le sta proprio intando lui Don't feed Ora che gliel'ha scritto non feederà più 3 deaths in 3 minutes Appena si puliscono un po' i Minion Assaltiamo la Lux Ok, magari dopo Eh Maledizione Qua si sa che deve ingaggiare di Di Warjump, sapete Questo lo prendo io Chissà cosa sarebbe successo se avessi ripremuto Scomparso Però se non pusci qua Va bene Lux è ancora andata back in tutto Cioè Ah buah Sì ma non ho preso neanche una kill Maledizione Tutto è misfortuna Maledetta Va bene Vado back Una control E via Omgerilli Sorry team Why morde Forse Whiskey Fammi vedere il profilo Fammi vedere il bro Niente Pietro 3 È fidato Ragazzi Siamo su police Ok O lo guardiamo un attimo Hai rotto il cazzo te E anche te Ma sentite i pugni di Stoli Sin Sembra tipo un gioco archi La finta Oh shit Manca pochissimo Toc Sarà un po' inutile questa control Vabbè Attenzione 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 Stuck stick Si può fare spicy con kindred Non giocarla Binding light Guarda come sta lontana E Oh oh Non c'è la ulti Eh lucky bro Non so che fa quel campione Quindi ho flashato Di Steve Oh my cock Oh mio dio ragazzi Trumbati Trumbati malissimo proprio Mi cagliare con Sha Senza ultimo suicido Penso anch'io Allora Mobility ragazzi Voglio muovermi tanto Let's go Ora del roaming Bisogna trovare un modo Per killare Pietro Topare è una minaccia Il signor Pietro Allora Non sembra un derunker Sembra uno veramente Scarso Il nostro top laner Perché ecco Botlin Oh Oh shit Ho perso la stack Del carretto Vabbè Sto adesso bot Ecco fatto Come scusa Oddio Fa piacere che mi pinghi Stare attento Da dove è uscita questa Eh Ah mi sforto Un latrombi Perché Perché c'ha paura Mi sforto Forse ha paura Dei draghi Ha paura Dei draghi Ah io vorrei Aiutare top A killare Pietro Ehm Solo che non c'ho La ulti E secondo me È dura Senza ulti Devo essere sincero Non so come faccia A essere quasi In pari col farm Questo mi Mi stupisce Oh shit Ok Aiuto Vabbè Due minuti e mezzo Ragazzi Porca puttana Ma poi scusami Ma poi scusami Cioè Ma la QD Lux Per quanto dura Un po' troppo Ho avuto due secondi Un quarto Un quarto tipo Di Di cc Ma dovrebbe durare Meno Un po' Doveva così tanto Siamo in early game Poi Eh c'è scritto due Come mai due secondi Un quarto di cc E non due Ma qua c'è Pietro Ok Sto capendo nulla E quello che succede Va bene Mamma mia Dov'è Ah c'è la Mordekaiser In groppali In Brasile Oddio santo Abbiamo fatto bordello Ma ha funzionato Questo è l'importante Anche lo slow Conta Ah penso Stanto gli hard cc Va bene Allora ok Torniamo bot Che il medicare Serve aiuto Ah fammi Vedere Allora Ultimate Hunter Abbiamo preso tutto Benissimo No Vabbè gold reset Cattimato 300 gold Worth Una morte importante Una morte importante Dodge Ecco così Impari Ma dov'è che dai C'ho la draktar La scopola Mid laner No trilli Ok Che la dici Più kill di tutti Più kill di tutti Ragazzi Bravissimi Demacia Chi c'è qui C'è un nemico Un nemico Allarme nemico Allarme nemico Allarme nemico Ah Ciò che è riduto C'è Pietro Oh 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 Eh Eh Pietro no Cos'è sto circo Ragazzi Aiuto Mamma mia Meno male Che questa Sta bella Addormentata Damn Eh Pietro non scherza Ragazzi Pietro non è uno Che scherza Il circo Di Moira Orfieric Quella avanti Entra su Scivana Che bello Eh Eh Che fai Pietro Eh Vuoi disrispettare me Vuoi disrispettare me Pietro C'è nessuno che mi aiuta Faccio da solo Pazzaito Modonna Stragi Ciao Ciao Gabri Siamo Abbiamo disintegrati Ragazzi Pietro Ne hai avuto Abbastanza Pietro vuole un altro Po' di botte Secondo me Fanno andare back No Servono ancora un po' di soldi Occhio al pietro Occhio al pietro Occhio al pietro Io Io Non lo so A me non piace Sinceramente Va bene Dai Vengo da una mano Anch'io Eh Scudate Ma che è questa Piatela Piatela 1-6 Lux Mamma Lux players Lux players Homage Lux players Arrivo Whiskey O comunque non è più morto È morto quattro volte in lane Poi basta Bisogna Non ho rubata Ho fatto i capelli Con quello C'è un giretto Povero pietro Gli altri hanno una kill a testa Non so Accoraggi di niente Ragazzi Dove è andato Oh oh Almeno l'ha preso Dai Sfortuna Ma che palle Attenzione Mi sforto Un'attenzione Oh Io Ok Io ho fatto la quest Da support Presa Eh Eh Mamma mia Oh top Oh Come si permette Allarme 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 Polizia Maledizio Una torre Non c'è nessuno E' la top lane Whiskey è morto Maledetto Whiskey Mi è deluso Ho detto Ah non è più morto Pauline in face Ed è morto Ci credo E andare via Va Oh Ma che cazzo È Qua Ecco vabbè ragazzi Non è possibile Ma è È immune A ricevere La mia Q Questa Perché Vabbè Mi ha vendicato Whiskey Almeno questo Cioè E' 30 Sembrava Facessi apposta Allora Prowler Mi sa di sì Oltretutto Questa di quanto riduce Il cooldown 24% Della mia ult In base alle età Ti scompro questo 28% Sono sempre 11 secondi Va bene Va bene La V attiva No è che letteralmente Tiravo la Q Lasciava l'altra parte Tiravo la Q Lasciava l'altra parte Non è che lo faccia apposta Se non sarebbe 2-10 Non era così intelligente È proprio Bad timing Che io tiravo la Q E lei lasciava In quel preciso distante Acqua Ne ho bisogno di acqua Ok Herald bot Eye maker al bot Cioè proprio Lo costruisce bot Mamma mia ragazzi Cioè Ha avuto Una velocità Nella risposta Sto tizio Con la ulti Attiva Proprio da 6 Aspettiamo Che muoia l'isin E poi Proviamo a killare L'ordy carry Molto bene Sarebbe la zona Ragazzi Che fa ste robe Ma cazzo Ma cazzo Io lo tiro davanti Non ha fatto Cioè la ulti attiva Se intanto c'è spuglio Mi ha ammazzato ad carry Poi l'ha ingaggiato Io Io boh ragazzi Forse sarebbe il caso Di prendere questo Sapete Perché effettivamente Non ho Non ho rimozioni Per le ward È meglio far Questo oggettino qua Perché Almeno mi permette Di rimuovere le ward Oh Le ha tirato un pugno Sulla tastiera Le ha stittato tutti Ragazzi Eccolo lì Ha 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 VP The hero Of the village Ha fatto The matcha The massian guy Attenzione Niente Vedete Devo aspettare A farla qui Volevo farla Subito Cazzo Ho lasciato In quel momento Comunque Il support Ha appena salvato Il suo di carry Non so se avete notato Non so se avete notato Ardivo Se arriva Pietro Ti difendo io Pietro dove sei? E là Pietro C'è Pietro C'è Pietro C'è Peter L'inseguimento A noi interessa Una sola preda Lux vieni qua E Vieni qui Lux Non ci credo Ragazzi Viva Non dinnanzi a me Avevo una missione Da compiere Ragazzi Avevo una missione Da compiere Era questione Di onore E l'ho portata A termine La missione L'ho portata A termine Ti volevano proprio Ma io volevo Lux Non mi interessa Posso venire anche In 50 Avere le torri mobile Che mi inseguono I minion che mi inseguono Ma io Ho portato a termine La missione Guarda Ho vinto Ho ucciso Lux Abbiamo vinto Visto Per la nona Lux non ha 10 morti Eh vabbè Natillor Grazie nel sub Grazie anche a Frapina Scusate Sono vi ringraziati prima Ragazzi Vi chiedo davvero Scuso Vi chiedo scudo Vi chiedo scudo Sono vi ringraziati prima Dai Onoriamo Onoriamo Ecco Ecco Ci ha messo un po' Visto Fede come si esce Al bronzo E' facile Basta essere Fortissimi Come me Tuck Top dem GG Poverini 1-9 2-6 4-13 1-9 Nein 8-9 9-9 9-9 11 12 Grazie.